Ciao! Faccio questo video per renderti partecipe di una cosa veramente bella, molto bella. Sono emozionata nel fare questo video perché sto per partire. Sto per partire per un viaggio veramente importante, un viaggio trasformativo, che mi è stato indicato dalle mie guide più e più volte. Fin quando a un certo punto mi hanno detto, guarda che devi partire entro luglio. E quindi mi sono organizzata, visto che non lo dico solo a te, di seguire i segnali e le informazioni, ovviamente sono la prima a farlo. Quindi mi sono organizzata, seppur questo è un periodo veramente molto molto pieno, anche perché la prossima settimana, non questo weekend, quello successivo, ci saranno i tre giorni di luce qui a Malaga. E infatti mi è stato detto, ma tu non parti prima per caso, proprio perché questo lavoro che andremo a fare, in qualche modo, permetterà proprio di avere nuove informazioni, di fare un cambio proprio vibrazionale molto potente, prima di tutto a me, e quindi di conseguenza anche alle persone che avranno la fortuna di poter partecipare al nostro incontro. Guarda, ti renderò partecipe di questo viaggio, non so ancora esattamente cosa farò, a parte una meditazione che mi è stata già intimata di fare, con un tempo specifico, in un luogo specifico. A parte questo non so nulla, quindi man mano che mi sposterò in questo viaggio, ti renderò partecipe e condivideremo tanti passaggi importanti. Ti mando un abbraccio fortissimo e ti auguro veramente una serata splendida. A presto, anzi, a tra poco perché c'è la diretta. Ciao!